Titoli fasulli per entrare nel mondo della scuola. Sono 101 le persone denunciate per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico dalla Guardia di Finanza di Treviso. Erano tutte state assunte negli istituti della provincia presentando titoli risultati non veri per scalare le graduatorie del personale scolastico ATA. Nel Merino un periodo che va dal 2018 al 2020, 2 milioni di euro il danno stimato all'erario, a insospettire le fiamme gialle graduatorie in cui si posizionavano ai vertici candidati che avevano attestato di aver conseguito diplomi di qualifica professionale con votazione di 100 centesimi in un ristretto numero di istituti scolastici campani. Per 43 delle persone assunte i diplomi risultavano rilasciati da quattro istituti nelle province di Salerno, Benevento e Avellino che non erano autorizzati dall'ufficio scolastico regionale allo svolgimento degli esami di qualifica professionale. Diversi i casi di diplomi del tutto falsi, 7 i candidati che hanno dichiarato di aver conseguito il titolo in un istituto paritario di Caserta, nel quale nel corso di un solo anno scolastico si sarebbero diplomati circa 700 studenti, nonostante fossero state richieste al Ministero dell'Istruzione solo 10 pergamene, 40 infine i candidati che hanno dichiarato il possesso di titoli di servizio falsi, attestando di aver svolto un'attività lavorativa in altri istituti scolastici privati campani, pugliesi, calabresi e siciliani.